Ciao a tutti, come gestire gli uomini che stanno con donne che non amano? Prima di affrontare questo tema, iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, nonché iscriviti al nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. E veniamo al tema. Lui ti ha detto che ama te, gli piace fare l'amore con te, ma sta con un'altra donna, di fatto, che potrebbe essere la moglie, potrebbe essere una fidanzata, una compagna, e non ha intenzione di lasciarla, nonostante dica che non la ama e dimostri la personalità nei tuoi confronti. Ora, come gestire tutto questo? Beh, intanto devi gestire le tue emozioni e le emozioni dell'altra persona. Questa è la cosa fondamentale e questo lo spiegherò nel seminario che farò a Torino, venerdì 8 novembre 2019, nel 20.45, dove spiegherò proprio come gestire le emozioni, sedurre le persone che devi sedurre, gli uomini che vuoi sedurre, e non soffrire, imparare a evitare di soffrire. Ora, devi tenere presente un fatto fondamentale. Il sesso non è amore. Sesso non è amore. Anche se c'è, diciamo, anche delle persone più famose di me, diciamo, nel web, che dicono che sesso è amore. Sesso non è amore. E non c'è neanche con l'innamoramento. Se il sesso fosse amore, probabilmente noi non saremmo qua, perché i nostri progenitori primitivi si sarebbero già istinti da tempo, diciamo così, se avessero dovuto aspettare di provare amore per fare sesso. Quindi il sesso è un qualcosa di diverso, è un'attività. Quindi, in realtà, se un uomo che ti dice che ti ama, ma poi in realtà quello che fa con te è sesso, oppure magari anche esce a farsi una passeggiata, esce e ti porta a cena, ti porta pure a fare magari ogni tanto qualche weekend di sgamo, ma la finalità è poi alla fine, è ben evidente, è sessuale. Quello è, diciamo, il contentino che ti dà proprio per non farti passare per una di quelle, ma poi di fatto sta con la compagna. E magari con la compagna non fa davvero sesso, o lo fa raramente, o lo fa sporadicamente. Magari davvero con la compagna non c'è più quella passione, però ci sono altri legami. Nel rapporto di coppie ci sono altri legami. C'è l'affettività, anzitutto, ci sono un sacco di legami che fanno sì che tu stai con quella persona. Ripeto, magari il sesso con la compagna non è che è azzerato del tutto, ma è un elemento sporadico. Come accade? Quale neuroscienza? Lo dicono chiaramente. Dai 18 mesi, diciamo così, la passione finisce. Che ti piaccia o che non ti piaccia? In 18 mesi la passione finisce. Per cui, se c'è una frequentazione ovviamente costante, certo che se tu lo vedi una volta ogni tanto al parcheggio del cimitero di nascosto, l'adrenalina mantiene viva la passione e può durare anche tanto tempo. Ma fin tanto che lo incontri quel giovedì sera al parcheggio del cimitero, la passione resta. Ma se per caso lui, per dire lasciarsi alla moglie, dopo un po' che con lui devi condividere di nuovo tutte le problematiche della vita, beh, la passione passerà e al parcheggio del cimitero ci andrà con un'altra. Quindi devi imparare a gestire le tue emozioni. E se vuoi, diciamo, conquistare questa persona, beh, dovrai, ripeto, tenendo presente che poi se tu la conquisti rischi di fare la fine della moglie, dovrai andare a capire esattamente quali sono i turbamenti che vive questa persona e amplificarli, ma prima di tutto devi stare bene tu. E per stare bene tu devi imparare a gestire la tua emotività, imparare a diventare indipendente da lui emotivamente. Indipendente. Perché lui ti tiene sul filo del rasoio? Perché tu hai un antagonista, non puoi vederlo quando vuoi, hai tutta una serie di cose che per la parte emotiva ci va a nozze con sta roba. Sono una pappa pur avvelenata, ma emotiva molto forte. Per cui c'è questo sbilanciamento. Quindi devi imparare a ribaltare la plessidra. E tutto questo lo spiegherò se parteciperai il venerdì 8 novembre 2019 a Torino, il seminario che farò sulle tecniche di gestione delle emozioni e di seduzione. Il riferimento è 333 15 11 703. Comunque lascio le info nel box. Per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Iscriviti al canale. Ciao a tutti.